Ciao a tutti ragazzi sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi vi voglio presentare un wargame che sta uscendo in edicola e che ovviamente avrete già riconosciuto sia dal titolo che poi lo vedete direttamente Basato sulle cronache di Warhammer 40.000 Ed è stata una trovata secondo me più che geniale e piacevole soprattutto da parte mia e di mia moglie L'abbiamo scoperto qualche giorno fa per puro caso perché il nostro amico Pippo ha l'edicola e ce l'ha fatto vedere E da lì ci è venuta subito l'idea di iniziarlo e ovviamente prima di tutto collezionarlo, prendere tutte quante le uscite Ma anche farci un video perché la cosa figa di questa uscita mensile in edicola è che oltre ad essere ambientato nel mondo di Warhammer 40.000 La figata è che già nel primo set che ovviamente come tutte le uscite in edicola costa 1,99 Già dal terzo si va a 10 euro al pezzo però vabbè si sa è così tutte le uscite dal mondo fino ai tempi del corpo umano Ci sono dentro 3 Space Marine, 3 Ultramarine, poi ci sono 3 colori della Citadel e un pennello della Citadel Che già uno potrebbe anche dire io sta serie non la faccio Mi compro 10 copie del primo numero che è uscito da 1,99, 2 euro E praticamente i colori me li tengo nel caso mi servissero, non pensavo uno a rivenderlo Però comunque teneteli perché ci sono 3 colori della Citadel più un pennello più 3 miniature Che detto sinceramente andate in qualsiasi negozio della GV in qualsiasi Non volete spendere dai 13, 14 ai 20 euro? Magari una cifra giusta è 15 e di sicuro spendereste quella cifra lì Il nome del gioco è Warhammer Conquest Al momento sono usciti 3 numeri e la GV ci fa sapere tramite la Shet Che è l'editore italiano che sono al momento disponibili in Italia 4 numeri Però ho già visto che ne hanno programmati fino a 30 se non erro E fanno questi primi 4 numeri per avere un pochino un zunto e per vedere un po' se le vendite vanno Perché è inutile iniziarne a fare 30 numeri che escono in Italia e poi magari non se li caca nessuno Quindi la GV tramite la Shet ha provato a pubblicare questi 4 numeri Noi abbiamo i primi 3 e se il gioco autoconclusivi e se il gioco dovesse piacere e vendere particolarmente andranno avanti Questo è il primo numero che viene come ho detto 1,99 euro Ci sono dentro 3 ultramarine, 3 colori, un pennellino Più ovviamente il manuale per dipingere e le regole del gioco Il secondo numero che già vedete sale a 5 euro Vabbè questo è un classico E all'interno c'è un altro colore delle basi come ovviamente le basi ce l'hanno anche di là 6 dadi da 6 facce e praticamente 3 miniature della Death Guard di Nargol E il numero 3 con 3 rivers, un altro colore e ovviamente anche qui le pedine per metterci le miniature e iniziare a giocare Chiarisco subito che per iniziare a giocare a Warhammer Conquest dovete avere almeno i primi due numeri Perché oltre a darvi due squadre da 3 c'è anche proprio il regolamento per giocare E ogni numero ovviamente c'è la sua aggiunta In numeri futuri lo GV fa sapere che metteranno anche pezzi di scenario e cose del genere Ragazzi inizia da terza costa 10 euro, costeranno tutti 10 euro È normale quando uno avrà finito la collezione e questa collezione andrà a costare 300 euro Però ci avrete un esercito completo Warhammer Conquest è un gioco di schermaglie Di schermaglie per due giocatori Quindi dimenticatevi gli eserciti sconfinati di Warhammer Questo è un gioco più da schermaglie Ma facciamo l'unboxing Apriamo la prima confezione del gioco Che come vedete ha un manuale di base Le tre miniature come vi ho detto Più le basi Pennellino e tre colori Apriamolo Guida per assemblare Marin Tra l'altro molto comodi perché le hanno fatte tutte ad incastro Non vi serve nemmeno la colla per montarli E questa secondo me è una figata Vi regalano anche l'endol per reggere la miniatura quando poi l'andate a dipingere Che è una figata assurda Bellina questa cosa qui della GV Più tutto il resto vedete i raccoglitori e d'altro Una piccola guida su come dipingere, giocare, collezionare Però ve l'ho detto almeno i primi due numeri servono per iniziare a giocare E poi aprendo questo qui Così vedete Guardate che cavolo di figata Settimana dopo settimana colleziona tutto ciò che ti serve per assemblare Dipingere le tue armate e giocare con i tuoi amici E praticamente in questo gioco di schermaglie Se comprirete tutti quanti ve l'ho detto Andrete a spendere sicuramente 300-350 euro Però dilazionate nel tempo Quando avrete finito la collezione ci sarà tutta questa roba all'interno Guardatela che spettacolo Con addirittura gli elementi scenografici Insomma dai Anche se andasse a costare 300 euro ci stanno Ovviamente anche qui una guida su come assemblare e dipingere Un'introduzione agli Space Marine E un po' all'ambientazione di Warhammer 40.000 Questo è un gioco fatto soprattutto per avvicinare la gente a Warhammer 40.000 E secondo me è fatto ancora di più per giocatori per chi non conosce il gioco Ed è le prime armi E si vuole inserire in questa ambientazione della GV I tre Space Marine Come vedete tranquillamente li potete montare senza colla E questa per me è una osa figa Perché mi ci attacco sempre le dita Me le incollo Quindi queste le potete assemblare anche senza colla Però un po' di colla mettetela sempre perché tiene ovviamente pezzi più saldi attaccati Poi le pedine che sono qui queste tre nere Il pennello Con questo secondo set che è il numero due potete già iniziare a giocare Avete tre Space Marine e tre Death Guard pronti per essere messi in campo Ovviamente la Death Guard con il proprio colore Verdogno lo marcio Tre miniature Le basi e sei dadi Più il tabellone di gioco dove iniziare le vostre partite Ovviamente gli elementi scenici sono disegnati Cioè non c'è niente in rilevo con cui il segnalino dei punti per le due squadre Sono tutti disegnati non reali in rilevo in 3D Però ve l'ho detto andando avanti o ve li comprate voi o ve li fate in casa O andando avanti con la collezione verranno sbloccati anche questi E questa invece è la terza uscita che non ve la stiamo a spacchettare Comunque ci sono altri tre Space Marine Secondo noi può essere una bella trovata Infatti quando l'ho vista ho detto ma guarda che bella figata hanno avuto la GV Magari ci fosse stata ai miei tempi 15 anni fa Quando ho iniziato a giocarci anch'io 15-20 anni fa Che invece deve andare al negozio e spende il minimo minimo 100-200 euro È un gioco veloce, un gioco di schedemaglie Ma soprattutto consiglio spensierato Comprate i primi due Comprate i primi due avete speso 5 euro Più 2 euro avete speso 7 euro Ci avete roba per giocare Poi magari gioco bello, brutto Ci avete roba per giocare, fare una cosa veloce con gli amici per perdere qualche ora Ma soprattutto oltre ad avere un gioco di schedemaglie Ci avete tutti i dadi, ci avete 4 colori Poi un altro commento ancora più spensierato Tutto al più compratevi almeno il primo da 2 euro Per lo meno ci avete 3 colori, il pennello E magari nel mezzo c'era anche quel dorato Quel colore particolare che vi serviva Vi mancava per dipingere qualcosa C'è anche il pennellino Con 2 euro vi siete portati a casa roba che in un negozio della GV Tanto lo sapete Se lo spendete 20 euro ne spendete 15 Quindi consigliatissimo Dateci un occhio e link in descrizione per abbonarvi Ed avere tutto quello che vi si è elencato Ragazzi spero il video vi sia piaciuto E da parte mia è tutto Alla prossima Alla prossima